Quello che io presenterò oggi sarà principalmente riguardante la finanza verde, quindi la finanza verde come strumento per sopportare la crescita verde. La finanza è cambiata grazie alla crisi e abbiamo nuovi strumenti che ci permettono di utilizzare moltissimi strumenti dove c'è la partecipazione dal basso verso l'alto del sistema finanziario. Cioè ci spostiamo da sistemi finanziari dove ci sono degli istituti come gli istituti bancari più stabili, quelli che c'erano prima della crisi, a un sistema dove c'è la partecipazione delle persone come un crowdfunding, come altri sistemi dove noi utilizziamo ICT per esempio per finanziare dei sistemi, delle proposte e così via. Questo è molto importante perché soprattutto nelle innovazioni e nella crescita verde queste fanno il grande, molte volte non si trovano nel mercato gli investitori ma gli investitori si trovano in un mercato più ampio tra tante persone che vogliono supportare delle idee nuove, delle innovazioni nuove. Ecco quindi il cambio che c'è stato, un grande cambio anche dovuto alla crisi economica. Quindi è possibile combinare una produzione sostenibile con la ricerca del profitto? Certo, sì 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 sì, questa è l'idea, l'idea di combinare questo aspetto virtuale dei due elementi perché si vede un po' l'elemento finanziario e l'elemento economico da un punto di vista diciamo olistico, io uso una parola che non mi piace moltissimo in questo momento però, olistico nel senso che utilizziamo sia gli aspetti economici generali, ad esempio l'aggregazione sociale, l'aggregazione cioè la crescita che può essere dell'occupazione e così via ma anche gli aspetti finanziari. E quindi questo può essere possibile grazie anche a tutti questi strumenti che stavo dicendo prima, strumenti nuovi della finanza. A livello pubblico invece crede ci sia un sostegno sufficiente all'energia verde? Allora dal punto di vista invece diciamo del settore pubblico, vediamo un po' come, cioè il sistema, ritorno sempre al sistema finanziario un attimo, il sistema finanziario vuole da noi e in pratica dal settore pubblico una certa certezza, ma non certezza nel senso che noi dovremmo mantenere queste politiche per sempre, ma una credibilità in quello che sono le nostre scelte e la credibilità molte volte non appartiene a certi settori. Inoltre nel futuro, cioè nel futuro adesso, si parla già di eliminazione dei settori, cioè dobbiamo già pensare agli investimenti dal punto di vista intersettoriale e quindi non abbiamo più settori tipo trasporto, educazione, ma dobbiamo lavorare in maniera orizzontale su vari settori. E questo era il grande cambio, ma ci sarà necessario un po' di rivoluzione anche lì. Però il bello di questo è che c'è una sfida di fronte a noi, possiamo veramente cambiare moltissimo, possiamo avanzare la crescita, veramente la crescita di una green economy e quindi va bene, siamo pronti e non possiamo altro che iniziare più presto.